mercoledì 22 giugno 2022 buonasera a tutti e benvenuti in una nuova edizione di dal vivo noi siamo sempre qui in diretta sui nostri canali di milano all news ci potete seguire da facebook ci potete seguire da youtube ci potete seguire da twitch e sul nostro sito web www.milanonews.it io sono andrea baldeschi e andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie di oggi da martedì 21 giugno il comune di milano ha reintrodotto il bonus taxi iniziativa che permette a determinate categorie di cittadini di accedere ad agevolazioni per l'utilizzo di taxi di altri servizi di noleggio autovetture con conducente tra le persone autorizzate a richiedere il bonus ci sono gli over 65 le donne in gravidanza le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative chi manifestano a mobilità fisica ridotta o a patologie accertate invalidanti anche di natura temporanea e infine chi ha soggetto a terapia salvavita anche tutti coloro che hanno un ise pari o inferiore ai 28 mila euro e le persone disoccupate o in cassa integrazione hanno diritto a richiedere questa agevolazione che consiste nella copertura del 100 per cento dell'importo della corsa fino a un massimo di 20 euro a corsa e per un totale di 200 euro per buono emesso a persona per richiedere il buono è necessario inviare una richiesta nella pagina dedicata sul sito del comune di milano accessibile mediante la ricerca delle parole buoni viaggio e ora andiamo a vedere la situazione del traffico a milano grazie alla nostra collaborazione con la redazione di luce verde un servizio a cura di aci e polizia locale luce verde milano buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione maggiori disagi in quest'ultima ora sulla tangenziale est tra il bivio a 1 e cam verso nord a causa di un incidente ulteriori rallentamenti sulla superstrada milano lecco in uscita dal capoluogo lombardo in questo caso per i lavori in corso tra la tangenziale nord e monza il tratto urbano della milano venezia è trafficato come di consueto trapero e cormano per chi arriva da torino e in direzione opposta tra la tangenziale nord e l'uscita di cormano e sulla tangenziale nord in aumento gli spostamenti tra nova milanese e le bivio a 4 maggiormente provenendo dalla milano meda trafficata anche la ovest in particolare tra quinto dei stampi e l'orenteggio in direzione dei laghi in città prosegue la stagione dei concerti estivi con il milano summer festival ricordiamo dalle 15 di oggi la chiusura di via di omede tra piazzale lorenzo lotto e viale federico caprilli fino alle 23 e 30 di domani maggiori dettagli su tutte le nostre notizie su milano.luceverde.it ed è tutto per il momento da gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura dell'aci e della polizia locale di milano grazie come sempre luce verde per il servizio offerto noi proseguiamo con le nostre notizie si è tenuto ieri martedì 21 giugno presso la sala biblioteca del polo civico manzoni il convegno quale scuola la scelta delle famiglie e la rete scolastica un evento organizzato dal politecnico e promosso dal comune di milano l'evento ha riguardato il fenomeno del white flight ovvero la tendenza autosegregativa da parte delle famiglie italiane a non mandare i propri figli a studiare presso istituti scolastici con una presenza significativa di alunni stranieri la conseguenza di questo fenomeno è la creazione di scuole ghetto spesso collocate nei quartieri più popolosi delle periferie come testimonia milena piscozzo preside dell'istituto riccardo massa al gallaratese i dati presentati da costanzo ranci docento del politecnico mostrano che nelle scuole dell'infanzia milanesi gli stranieri costituiscono circa il 40 per cento degli studenti numero che tende a diminuire negli ordini scolastici superiori assistandosi al torno al 25 per cento nell'ambito del convegno sono stati presentati anche casi di integrazione di successo basati sui metodi montessori e pizzigoni come ad esempio la nuova scuola media del quartiere adriano e ora come sempre andiamo a vedere la situazione dell'aria a milano grazie alla nostra collaborazione con wise air come potete vedere dal grafico alla mia sinistra il wise index di oggi è 11 quindi andiamo avanti e proseguiamo ad avere dei valori che sono ben al di sotto del minimo consentito che ricordiamo essere quello di 50 sperando che caldo permettendo appunto questo valore resti così almeno fino all'arrivo del prossimo autunno è mercoledì e come sapete noi il mercoledì parliamo di urbanistica ed espansione della città insieme ad urban file ci sono aggiornamenti riguardanti il cantiere del giardino di via monte ortigara situato nel distretto di porta vittoria il progetto affidato a prelios sgr spa fa parte del programma integrato di intervento per la riqualificazione delle aree dell'ex scalo ferroviario di porta vittoria il suo completamento vedrà la realizzazione di due parchi pubblici il primo che sorgerà nell'area compresa tra via le umbria via monte ortigara e via cervignano coprirà un'area di circa 30 mila metri quadrati diventerà un giardino di zoda corredato da giochi per bambini il secondo invece coprirà un'area di 10 mila metri quadrati tra via cervignano e via le molise e sarà dotato di attrezzature sportive al momento sono in corso i lavori presso via cervignano ma ancora non è stata comunicata una data definitiva per il completamento del progetto eccoci di nuovo qui in diretta proseguiamo con l'ultima notizia della nostra giornata con la ripresa del mercato immobiliare e il ritorno alla normalità dopo il periodo di intenso ricorso allo smart working a causa della pandemia i prezzi per la compravendita e l'allocazione di immobili a milano hanno subito un brusco innalzamento i rincari maggiori hanno interessato i monolocali la soluzione abitativa più richiesta da studenti e lavoratori fuori sede che stanno tornando a milano dopo la fine della crisi pandemica i canoni mensili media milano per l'affitto di un monolocale nel mese di giugno sono saliti a circa 680 euro mentre per affittare un bilocale sono necessari circa 920 euro per quanto riguarda invece la tendenza dei rincari in relazione alla zona le aree maggiormente interessate sono quelle periferiche che ha conferma della correlazione tra il ritorno dei fuori sede e l'aumento dei prezzi grazie alla nostra collaborazione con ATM parliamo ora di servizio pubblico il trasporto pubblico milanese ATM comunica che fino a domani giovedì 23 giugno i bus della linea 98 in direzione Lotto devieranno da via Gavirate via Gignese al capolinea di Lotto M1 M5 a causa di un evento che si terrà in via Diomede le vetture effettueranno una fermata in piazzale Lotto dopo il viale Elia ma non passeranno per via Diomede infine a partire da oggi mercoledì 22 giugno ricordiamo i bus 64, 78, Q78, 80 e 423 devieranno a causa di lavori di asfaltatura in un tratto di via San Giusto nello specifico i bus delle linee 64 e 80 non passeranno da via San Giusto deviando invece per via Novara di conseguenza salteranno le fermate tra via Novara e San Siro Stadio in direzione Bonola, Quinto Romano i bus della linea 78 e Q78 invece salteranno le fermate tra l'ospedale San Carlo e San Siro Stadio a causa della deviazione che li porterà a passare per via Marx via Sant'Elena e via Arare invece di passare per via San Giusto da ultimo i bus della linea 423 in direzione San Siro Stadio devieranno e salteranno le fermate tra via Novara, via Sant'Elena e il capolinea il tragetto sostitutivo prevede infatti il passaggio per via Arar via Dessier e piazza Axum come sapete da quando è scoppiato il conflitto inizio marzo noi siamo qui anche per cercare di darvi tutte le informazioni necessarie per l'accoglienza di tutti i profughi che appunto scappano dalla guerra in Ucraina e dalle bombe in particolare giovedì 16 giugno la regione ha adottato una nuova piattaforma per gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei rifugiati la necessità di innovazione si è avuta a fronte dello straordinario arrivo di profughi circa 130.000 al 40% dei quali si trova proprio in Lombardia la rapidità delle operazioni di censimento permette un'assistenza veloce ed efficace capace di rispondere alle esigenze di anziani, minori e soggetti deboli la piattaforma informatica sviluppata con il gruppo engineering partner di Aria SPA è infatti basata su un sistema cloud che permette l'accessibilità da diversi dispositivi questa tecnologia permette di mantenere l'elenco degli arrivi sempre aggiornato e costruire una scheda personalizzata per ogni assistito per maggiori informazioni potete consultare la sezione dedicata all'emergenza ucraina sul sito www.regione.lombardia.it inoltre sempre il comune di Milano, sempre nell'ambito dell'emergenza umanitaria si segnala che tutti i cittadini che ospitano nella loro abitazione dei cittadini dei profughi ucraini devono presentare entro 48 ore la dichiarazione di ospitalità che si può trovare alla pagina Milano Aiuta del sito del comune la dichiarazione deve poi essere presentata personalmente via raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata ai commissariati della questura di Milano o ai comandi della polizia locale dei comuni dell'Interland che non sono sedi di commissariato e concludiamo il nostro telegiornale come sempre con il no profit il nostro inviato di quartiere Mario Donadio che ringraziamo ci ha segnalato che oggi mercoledì 22 giugno ricomincia il cinema all'aperto organizzato nel campo dell'oratorio presso la parrocchia Santa Maria annunciata di via nera in caso di brutto tempo però l'evento si sposterà al centro Asteria in piazza Carrara l'iniziativa organizzata da Associazione Asteria in collaborazione con l'Associazione Alveare è giunta alla sua terza edizione e prevede la proiezione di ben 40 pellicole al costo di 6,50 euro per serata con la possibilità di ingresso ridotto per i minori di 14 anni i biglietti sono acquistabili sul luogo o sul sito web dell'associazione per la serata di oggi per esempio è in programma Marilyn Agli Occhi Neri di Simone Godano la proiezione inizierà alle ore 21 e 30 e per maggiori informazioni è possibile contattare il centro Asteria al 028460919 e con questa notizia è tutto io vi ringrazio per averci seguito vi invito a rimanere collegati sui nostri canali dal device da cui ci state seguendo noi siamo sempre in diretta fino alle ore 20 e io vi do appuntamento con una nuova edizione di Dal Vivo buona serata